Buon pomeriggio e un caloroso benvenuto nel programma di certificazione Top Employers 2023. Prima ancora di presentarci diamo un'occhiata a cosa ci aspetta. Grazie a tutti i nostri spettatori e attraverso un'occhiata. il nostro compagno profilo, la bencienza di inserimento, il nostro besti di pratica survey, il nostro evento informe, la certificazione e il nostro lavoro, e il nostro lavoro allo di un'interazione di un'interazione integrale. Il nostro organismo è utilizzato a chiama 4 step programma che è stata creata da le nostre esperti. The steps include service kickoff, survey, validation and certification. At the start of the annual certification program, Top Employers Institute supports participants to set up for a successful certification journey. The HR Best Practices Survey provides a comprehensive assessment of your organization's people strategies and practices. All participants are given four weeks to complete the survey. During validation, our HR auditors assess your survey responses. This step ensures that your answers to the survey accurately reflect your organization's people strategies and practices. Your performance is rated and benchmarked against an international standard. External auditors check and ensure that the process is done accurately and fairly. Employers that achieve the required level are then certified. The certification will be communicated to you and is placed under embargo until all Top Employers have been notified. After the embargo is lifted, you can proudly announce your organization's status as one of the world's leading employers. You will receive access to your results dashboard to help plan, develop and strengthen your people strategies and practices. Through the Top Employers Institute's brand, benchmark, alignment and connect pillars, we help you accelerate the impact of your people strategy and strengthen your position as an employer of choice. Welcome to the start of your Top Employers' journey. Top Employers Institute for a better world of work. Bene, come avete visto, il video riassume molto bene appunto il nostro programma e spero anche che vi renda entusiasti del nuovo ciclo così come lo siamo noi. Ci aspetta questo nuovo ciclo di certificazione e siamo veramente molto felici di presentarvi i dettagli di ogni fase di questo viaggio proprio nel webinar di oggi. Prima di farlo, una brevissima introduzione da parte nostra. Oggi con voi e come sempre Michelle Marchi e Charo Auditor ci sarà Antonio, c'è Antonio Argirò e Charo Auditor e la sottoscritta Federica Marucci. Andiamo a questo punto un'occhiata alla nostra agenda per questo webinar di benvenuto. Lo scopo di questa presentazione è quella di farvi conoscere l'intero viaggio verso la certificazione Top Employers 2023 per il prossimo anno. Inizieremo con la fase di kick-off, questa è la prima fase di orientamento all'interno del programma Top Employers e quindi vogliamo assicurarci che riceviate tutte le informazioni pertinenti e necessarie per iniziare con successo il vostro Top Employers Journey, iniziando con la partecipazione proprio a questo webinar. Successivamente esploreremo la fase della survey, spiegheremo quindi come è strutturata, cosa tenere a mente in fase di compilazione e dove reperire ulteriori informazioni. Parleremo quindi della fase di validation, è il principale punto di ancoraggio del nostro viaggio e durante questa fase daremo proprio un'occhiata più da vicino alle vostre pratiche HR. È forse la più intensa ed arricchente parte del viaggio e dove poi lavorerete a stretto contatto proprio con il vostro HR Auditor di riferimento. Dopodiché, vi introdurremo l'ultima fase, quella appunto della certificazione. A questo punto avrete già svolto la maggior parte del lavoro e sarà in questa fase che Top Employers Institute effettuerà i controlli interni finali, elaborerà il vostro punteggio e vi darà accesso alla dashboard dei risultati. Ultimo, ma non meno importante, condivideremo con alcune date importanti con voi per darvi una panoramica dei passaggi successivi più salienti e alla fine lasceremo anche spazio alle vostre domande. Passiamo quindi alla fase di kick-off. Diamo il via al nostro giorno e al vostro giorni attraverso questo webinar di benvenuto a cui sono inviate tutte le nostre aziende partecipanti. Come appena presentato nell'ordine del giorno nella nostra agenda, questa sessione ha lo scopo di familiarizzare con i passaggi essenziali del nostro programma. In aggiunta a questo riceverete anche un'email di benvenuto che vi fornerà delle informazioni più dettagliate. Vi darà accesso a tutte le informazioni e al materiale di supporto disponibili nel portale Top Employers per aiutarvi a compilare la survey. Indicherà anche le vostre tempistiche individuali per le prossime fasi della survey e della validation. Come terzo passo organizzeremo una call di benvenuto individuale specificatamente dedicata ai nuovi partecipanti o ai nuovi primary contact per assicurarci di aver chiarito eventuali dubbi prima di iniziare il nostro processo. Tuttavia, poiché la maggior parte di voi è con noi da molto tempo e conosce molto bene i nostri processi e sappiamo anche che il vostro tempo è prezioso, non pianificheremo chiamate dettagliate individuali con tutti. L'invito di benvenuto è mirato specificatamente quindi ad integrare e aggiornare i nostri nuovi partecipanti meno esperti sul processo. In ogni caso, i vostri chair auditor di riferimento, così come i Global Project Manager, sono a vostra disposizione in caso di ulteriori domande. Vediamo invece il primary contact che è un ruolo chiave. Per avere successo nel programma è importante stabilire infatti una buona relazione con il vostro primary contact. L'avete sentito nominare spesso, lo sentirete nominare spesso e quindi vediamo di definire, di spiegarvi chi è e che cosa fa il primary contact. Il primary contact è il nostro principale punto di contatto per tutto il processo di certificazione, sia per partecipanti internazionali che locali. È responsabile di compilare la survey e fornire tutte le informazioni rilevanti durante la fase di validation e quindi è estremamente importante che come primary contact siate disponibili durante tutto il ciclo di certificazione. Ovviamente sappiamo che malattia, homeschooling, la quarantena e altri eventi imprevedibili possono interferire e quindi vi consigliamo di nominare un vice che possa intervenire per voi in caso di imprevisti. Ci sono ovviamente delle responsabilità associate a questo ruolo, ma ciò non significa che dovete fare tutto da soli, anzi è il contrario. Poiché infatti la survey è piuttosto ampia, consigliamo sempre di lavorare in team. Per fare ciò, come primary contact, dovete sempre condividere tutte le informazioni con le parti interessate all'interno della vostra azienda e della vostra HR community. Questo passaggio è anche facilitato dal portale Top Employers, in quanto permette di delegare il lavoro sui singoli topic ad altri colleghi, generare nuovi utenti del portale direttamente nella piattaforma. Infine, il primary contact sarà l'unico a ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da Top Employers Institute. Ciò include anche la notifica di certificazione, il ranking se applicabile, nonché gli inviti all'evento di celebrazione della certificazione e a tutti i nostri eventi Connect. Continuiamo invece con la fase della survey. Se avete partecipato anche l'anno scorso, riconoscerete questa struttura della survey, che è appunto rimasta invariata. Contiene quindi circa 350 best practices che coprono vari aspetti delle risorse umane. La survey è strutturata in sei aree, ciascuna delle quali contenente da tre a quattro topic. Simile al vostro percorso per diventare un Top Employer, la nostra survey riflette il percorso dei vostri dipendenti e il modo in cui questo è supportato dalla vostra organizzazione. Le aree Attract, Develop ed Engage rappresentano il percorso del vostro dipendente. Iniziamo infatti con le pratiche implementate per attirare i candidati e convertirli poi in nuovi assunti, integrati con successo, per poi passare al modo in cui sostenete lo sviluppo dei vostri dipendenti. E infine esaminiamo ciò che la vostra organizzazione implementa per mantenere coinvolti i dipendenti anche dopo che hanno lasciato l'organizzazione. Le aree di Steer e Shape esplorano le strategie generali invece dal punto di vista del datore di lavoro. Steer si riferisce a come e dove vuole arrivare la vostra organizzazione. Shape invece tratta argomenti sull'infrastruttura e le risorse in atto per garantire che quanto definito in Steer venga implementato. E infine Unite esplora i topic unici per la ciascuna organizzazione e unisce i dipendenti aiutandoli a connettersi tra loro così come con l'organizzazione. Insieme queste sei aree coprono tutti gli aspetti delle risorse umane, compresi i topic nuovi e rilevanti, che riflettono le ultime innovazioni e tendenze HR. Vediamo a questo punto gli updates. Abbiamo visto infatti che la struttura rimane invariata, però come facciamo ogni anno abbiamo implementato una serie di miglioramenti in base proprio al feedback raccolto dai nostri partecipanti. Il focus dell'aggiornamento Top Employers 2023 delle HR Best Practices Survey è sui seguenti topic, la leadership, dove vediamo un aggiornamento generale delle pratiche relative alla leadership, sia nell'ambito del topic leadership che nel topic career, affrontando maggiormente gli aspetti dello sviluppo della leadership. La parte sull'engagement, c'è un aggiornamento mirato per assicurarci di includere gli sviluppi più recenti attorno al concetto più ampio di ascolto dei dipendenti, mentre per quanto riguarda i valori abbiamo scelto di porre maggiormente l'accento sulla nozione di purpose. Il topic infatti è stato pertanto rinominato purpose e valori. Nel complesso potete aspettarvi circa il 5% di domande nuove più alcuni piccoli aggiornamenti, oltre ad un miglioramento sostanziale delle funzioni di aiuto per guidarvi nell'interpretazione delle domande. Questo ci consentirà comunque di fornire circa il 90% delle risposte da precompilare automaticamente con le risposte dell'anno scorso. Ovviamente questo vale solo per i partecipanti a partire dal secondo anno. Vediamo ora invece il caricamento di documentazione obbligatoria. Questo infatti è anche un aspetto che non cambierà rispetto all'anno scorso. Alcune pratiche della nostra survey richiedono il caricamento di documentazione a supporto. Come vedete nella slide richiediamo 4 documenti obbligatori ogni anno ad ogni partecipante e 14 documenti obbligatori aggiuntivi invece per i nuovi partecipanti, quindi al primo anno. Troverete l'elenco completo delle domande che richiedono un documento obbligatorio nella User Guide della survey, che è appunto nel portal. Ricordiamo che solo 4 documenti devono essere aggiornati a sistema ogni anno contro i 18 del primo anno di partecipazione. Vedrete poi anche che nel portale alcune domande vi consentono di caricare i documenti facoltativi nel caso in cui da parte vostra si desiderasse condividere con noi alcune informazioni di base aggiuntive. Vediamo a questo punto, andando avanti, alcuni suggerimenti rispetto appunto alla documentazione da caricare, in quanto comunque vogliamo essere sicuri che condividiate con noi i documenti corretti. Se navigate attraverso la survey nel portale potete anche scoprire di più sui requisiti richiesti tramite la funzione di aiuto. È fondamentale che i documenti forniti come prova a supporto siano specifici per la pratica in questione e quindi assicuratevi di caricare i documenti corretti proprio per le domande giuste. Un altro punto che vorremmo evidenziare è la presentazione di documenti particolarmente pesanti in termini di formato. In generale possiamo dire meno è di più. Quindi idealmente chiediamo di fornirci informazioni che possono essere illustrate su un one pager, per esempio Total Reward Statement. Tuttavia se avete l'impressione di dover condividere con noi informazioni più estese per illustrare il contesto di una pratica, vi chiediamo allora di evidenziare la pagina o la sezione ad essa relativa. Sappiamo che a volte non è possibile per i nostri partecipanti fornire tutti i documenti richiesti nella lingua adottata per la validazione oppure eventualmente in inglese. In questi casi vi chiediamo gentilmente di tradurre per noi le parti cruciali del documento assicurandoci allo stesso tempo che il testo originale sia accessibile a noi come testo di riferimento e non incorporato in un'immagine. In sintesi, la qualità dei documenti è fondamentale. Maggiore la qualità e la rilevanza per la pratica in questione, più è probabile che saremo in grado di accettare e validare questi documenti. Non dimentichiamoci del punto più importante, ovvero ricordiamo che è responsabilità del primary contact non condividere dati personali con noi. Anche se la maggior parte di voi probabilmente sa già quanto sia importante per noi la sicurezza dei dati, sappiate che tutti i documenti caricati verranno automaticamente eliminati l'anno successivo al completamento del ciclo di certificazione. Inoltre, come indicato nel nostro disclaimer GDPR Standard, noi come Top Employers Institute non vi chiederemo alcun dato personale in nessun momento e cancelleremo immediatamente qualsiasi documento contenente questo tipo di informazioni sensibili senza consultarvi. Vi preghiamo di contattarci in caso di necessità di maggiori informazioni su questo argomento. Allora, vediamo a questo punto invece la valutazione delle pratiche, come sistematico, adottato in parte oppure non adottato. Molti di voi già conoscono questa scala di risposta, tuttavia poiché è il principio di base più importante per rispondere correttamente alle domande, vorremmo prenderci un momento qui per chiarirlo, prima proprio di iniziare con la compilazione della survey. Per la maggior parte delle domande della survey ci sono tre opzioni di risposta, tra cui scegliere adottato in modo sistematico, adottato in parte e non adottato. Queste opzioni in genere corrispondono ad un certo livello di maturità del processo. Cosa significa concretamente? Quando si parla di pratica sistematica, in generale si parla, si può parlare di pratica sistematica se sono delle tre condizioni. Prima di tutto la rilevanza, quindi questa pratica è in atto esattamente come descritto. Secondo punto l'ambito, questa pratica è implementata in modo uniforme, sistematico in tutta l'organizzazione, quindi significa che è disponibile o applicabile ad almeno l'80% della popolazione rilevante. E terzo punto le tempistiche, la pratica deve essere implementata entro il 30 giugno dell'anno di partecipazione. Questa data limite è in vigore in modo da mantenere una valutazione equa per tutti i nostri partecipanti, indipendentemente da quando si compila la survey. Nello specifico, i partecipanti che iniziano presto il processo non saranno svantaggiati da questa regola, purché sia possibile dimostrare attraverso piani di progetto, stanziamenti di budget, comunicazioni e-mail, tappe fondamentali, eccetera, che una pratica verrà implementata entro il 30 giugno. Come si definiscono invece le pratiche adottate in parte? Parliamo di una pratica adottata in parte, se in atto all'interno dell'organizzazione, ma uno o più dei tre criteri di qui sopra non sono soddisfatti, quindi rilevanza, ambito e tempistiche. Ad esempio, la pratica esiste, ma con approcci diversi in varie parti dell'organizzazione. Adottata in parte potrebbe anche significare che avete un programma o una pratica diversi in atto, che hanno uno scopo o un obiettivo simile, tuttavia non corrisponde esattamente alla pratica come la descriviamo. In altre parole, solo alcuni degli elementi descritti nella pratica sono applicabili. Oppure, se avete un programma o una pratica applicabile a tutti i dipendenti, ma potrebbe non essere ancora fondamentalmente in atto, per esempio non c'è nessuna politica ufficiale, né c'è stata alcuna comunicazione a tutti i dipendenti. Un ultimo esempio di pratica adottata in parte potrebbe essere una pratica in via di implementazione, e cioè che non è ancora stata applicata in modo sistematico. Ad esempio, un nuovo strumento in fase di implementazione, ma non è disponibile per tutti i dipendenti prima del 30 giugno di quell'anno. Quando invece le pratiche non sono adottate, ovviamente quando la pratica non è implementata nella vostra organizzazione, e se state attualmente conducendo un progetto pilota, o se state progettando un programma da implementare in futuro. È fondamentale considerare questa distinzione al fine di garantire una validation più agevole e una valutazione più accurata delle vostre iniziative HR. E a questo punto lascio la parola alla mia collega Michelle Marchi. Grazie Federica. Andiamo a questo punto nel vivo delle HR Best Practice Survey, di come funziona concretamente il processo. Le HR Best Practice Survey sarà visibile all'interno del portale Top Employers alla data di inizio di compilazione concordata con ciascun partecipante, accedendo direttamente dalla pagina Survey nel menu di navigazione dell'home page principale. Dalla data concordata avrete quindi quattro settimane per completare il questionario. Queste tempistiche sono state fissate e definite per tutti i partecipanti, indipendentemente dall'ambito internazionale della loro certificazione. Il portale Top Employers è strutturato in modo tale da facilitare il vostro lavoro e collaborazione al 100% online. Survey User Guide Molte informazioni sono disponibili direttamente online nel portale della Survey, tramite la funzione di aiuto, che quest'anno sarà ancora più visibile e sempre attiva, o tramite pop-up orientati all'azione che facilitano e spiegano la gestione del nostro tool. Qualora vi fosse la necessità di cercare alcune funzioni specifiche durante la compilazione, potete fare riferimento alla Survey User Guide. La Survey User Guide descrive, ad esempio, come accedere e navigare alla Survey, come creare nuovi utenti o cambiare la lingua di compilazione. La funzione Aggiungi nuovo utente è particolarmente interessante, in quanto come partecipanti potete creare quattro utenti completi, che avranno anche loro accesso al portale nella sua totalità. Si possono creare anche numerosi utenti delegati, ovvero il Primary Contact potrà decidere di delegare determinati topic della Survey, sia durante la fase di compilazione, ma anche durante la validazione, permettendo quindi ai colleghi di revisionare le domande di competenze e eventualmente caricare documentazione. Quindi questa è una nuova funzionalità che è stata inserita quest'anno. Sempre nella guida troverete anche suggerimenti e consigli utili per elaborare la Survey, per esempio come fornire ulteriori informazioni su determinate pratiche già durante la fase di compilazione, come aggiungere ai preferiti una domanda da rivedere prima di inviare la Survey e linee guida precise per caricare i documenti. Andiamo nel dettaglio della fase di Validation, che è la fase probabilmente più attesa. Lo scopo della validazione è di assicurarsi che la Survey sia stata compilata correttamente e che le vostre risposte riflettano il contesto attuale di implementazione delle pratiche all'interno della vostra organizzazione. Quali sono le tempistiche? Al fine di garantirvi un'esperienza ottimale, vogliamo assicurarci che l'intervallo di tempo complessivo del processo di certificazione dall'inizio della Survey al completamento della validazione sia di circa 10 settimane. Di queste 10 settimane avrete 4 settimane per completare l'HR Best Practice Survey. Di conseguenza, la fase di Validation durerà circa 6 settimane, dall'invio della Survey alla chiusura di questa fase. I nostri HR Auditor avranno una settimana per preparare la Validation e creare e condividere con voi la lista di Findings all'interno del portale. Findings sono una selezione di pratiche della Survey che verranno condivise in quanto saranno oggetto di discussione durante la fase di Validation. L'ambito dei Findings può variare a seconda dei partecipanti in base a quelle che sono state le risposte fornite per la Survey e in particolare anche in base ai cambiamenti che sono stati attuati di anno in anno. Altri frattori possono influire sulla lista dei Findings come ad esempio l'approccio al processo di validazione, sia esso locale o internazionale. Le quattro settimane successive alla fase di Validation vengono utilizzate per il follow-up, ovvero vengono effettuati diversi scambi di informazioni durante i quali i partecipanti avranno opportunità di condividere informazioni aggentive su richiesta dell'HR Auditor. Il primo scambio di informazioni avverrà attraverso il portale quando verrà condiviso con voi l'elenco di Findings. Una volta che avrete accesso all'elenco di Findings potrete anche andare a visionare per quali pratiche specifiche è stato richiesto di presentare ulteriore documentazione aggiuntiva, così come di spiegare e approfondire maggiormente le vostre risposte. Potete inserire tutte le informazioni direttamente tramite il portale online. Sarà l'HR Auditor poi a controllare quelle che sono le informazioni e i documenti inviate in preparazione per la Validation. Il secondo scambio di informazione assume il formato proprio della sessione di Validation che avverrà online dal vivo. Questa è l'opportunità per i partecipanti per poter discutere e approfondire nel dettaglio gli aspetti più complessi delle vostre pratiche HR. La sessione di Validation richiede circa due ore per i partecipanti già a partire dal secondo anno. Diversamente per i nuovi partecipanti il tempo richiesto è di 4-5 ore, pause incluse. L'ultimo scambio di informazioni segue la sessione di Validation e vi permette di fornire al vostro HR Auditor gli ultimi elementi mancanti sempre attraverso il portale. Tenete presente che questo è l'approccio generale standard e l'esperienza individuale potrebbe differire leggermente per diversi motivi. Potrebbe essere dovuto al coinvolgimento del vostro HQ in alcuni casi specifici nell'ambito del processo di certificazione internazionale o a un diverso approccio che è stato impostato secondo i requisiti specifici della validazione. Al fine di garantire che il processo si svolga senza imprevisti è importante che vi assicuriate di rispettare i tempi di consegna richiesti ovvero un massimo di 5 giorni lavorativi per fornire un feedback al vostro HR Auditor durante diversi scambi di informazioni. Questo sarà chiaramente indicato nelle comunicazioni che riceverete man mano come fattore appunto di successo per la collaborazione all'interno del programma di certificazione. Una volta che saranno chiusi tutti i findings che saranno discussi durante la validazione da parte del HR Auditor vi contatteremo per chiudere ufficialmente questa fase del programma. accesso immediato alla dashboard con le risposte finali questa è una novità di quest'anno è l'aggiornamento più innovativo che abbiamo progettato appunto per quest'anno di certificazione. Vorremmo evitare quindi di farvi aspettare fino a novembre per accedere ai vostri risultati quindi quest'anno poco dopo aver completato la validation potrete accedere a una prima panoramica delle vostre risposte finali. Questo vi fornirà un overview delle possibili aree di sviluppo subito dopo la conclusione della validation in modo da poter già iniziare a lavorare identificare quelle che sono le vostre priorità e quindi intraprendere quelli che sono i vostri piani di azione. Importante tenere a mente che in questa fase il punteggio della certificazione non sarà disponibile pertanto non saremo in grado di rivelare alcun dato sulla vostra futura potenziale certificazione o classifica. Ora che abbiamo svelato un po' quello che è stata la nuova funzionalità di quest'anno aggiungiamo un'ultima informazione tecnica prima di passare alla fase di certificazione. Vi consigliamo di visualizzare il video guida alla validazione che verrà condiviso con voi prima della sessione di validazione stessa in modo da raccogliere informazioni su dove accedere alla lista dei fani nel portale come visionare lo status dei findings e imparare ad aggiungere commenti e documenti per le singole pratiche così come aggiornare le vostre risposte qualora vi venisse richiesto dall'icearudito. Chiaramente il vostro ricerudito sarà il vostro punto di riferimento e disponibile per rispondere a qualsiasi chiarimento. Passiamo alla fase di certificazione quindi l'ultima fase del programma La fase di certificazione entra in gioco una volta completata la fase di validation per tutte le aziende partecipanti. Durante la fase di certificazione verranno elaborati e finalizzati i risultati della certificazione da parte del nostro HQ. I risultati della certificazione verranno comunicati a novembre nella data di notifica della certificazione stessa tramite un'email ufficiale al primary contact dell'azienda. Come probabilmente le aziende che non sono più partecipanti al primo anno già sanno i risultati della certificazione quindi dell'ottenimento della certificazione stessa saranno sotto embargo a partire dalla data di notifica. La scadenza dell'embargo verrà condivisa con voi non appena disponibile solitamente a gennaio quindi proprio per permettervi anche di preparare quelle che saranno le comunicazioni relative al vostro status. Subito la notifica della certificazione sarete invitati a partecipare a una sessione di brand e connect activation durante la quale Top Employer Institute vi guiderà attraverso tutti gli strumenti di comunicazione messi a disposizione per comunicare il vostro status di Top Employer. Durante questa sessione vengono condivisi anche dettagli importanti riguardanti l'evento di celebrazione. Parliamo della Result Dashboard quindi l'accesso al vostro benchmark ed insight. Sappiamo che l'evento di certificazione è sempre un momento clou dell'anno chiaramente è importante anche accedere a quelli che sono i vostri risultati. Se avete partecipato l'anno scorso avete già familiarità con quello che è il tool a vostra disposizione per fare un po' un refresh di come utilizzarlo lancio nuovamente il video. Welcome to the Top Employers Institute Advanced Dashboard Demo. The Advanced Benchmark Dashboard gives you the ability to benchmark yourself against a custom set of top employers based on advanced filters. This dashboard is built on the standard version with the exception that if you click on the Create or Modify Benchmark Group button you will be taken to an advanced filter page. Here you can filter the global data set of top employers based on the continent the country or region the industry the organisation's workforce structure and employee size. You can set these filters up by combining them. For example you can select the consumer goods and services sector of Europe with top employers predominantly having blue collar workers and are relatively smaller in size. You can view their average results compared to your results and you can see which particular practices they have been implementing compared to you. You can always go back to readjust the benchmark group and set up a different benchmark group you're interested in. For example removing previous filters, expanding your selection with another industry or picking specific countries you're interested in and then continuing with exploring these results. The advanced benchmark dashboard is also available for the group dashboard. where it's at an HQ level you can compare the results of your group with custom selected benchmark groups. Reach out to your Top Employers Institute account manager if you'd like to learn more about optimizing your benchmarking through the advanced dashboard. Avete visto attraverso il video come accedere alla dashboard dei risultati online attraverso il portale Top Employers. Ogni anno come Top Employers Institute ci adoperiamo per migliorare quelli che sono i nostri strumenti e servizi aggiungendo anche nuove funzionalità alla dashboard dei risultati. I partecipanti non al primo anno avranno già visto quello che è stato lo sviluppo del tool negli ultimi due anni. Per aggiornarvi su tutte le funzioni della dashboard dei risultati sulle novità verrà organizzata una sessione di benchmark activation durante la fase di certificazione. Durante questa sessione vi aiuteremo ad aggiornarvi su quelle che sono le nuove funzionalità e ad esplorare al meglio la dashboard. Le sessioni si terranno dopo la notifica di certificazione di novembre. Offriremo una sessione per lingua e le registreremo in modo che possiate accedervi in qualsiasi momento. Andiamo a vedere insieme quelle che sono le date importanti. Ormai siamo al termine del nostro giorno e quindi è importante ribadire quelle che sono poi le timeline del processo. Come potete vedere nella panoramica di questa slide il programma di certificazione verrà lanciato il primo di marzo quindi data in cui la survey diventerà visibile e accessibile. Ci auguriamo che molti di voi colgano questa opportunità per iniziare con anticipo la compilazione della survey e quindi sfruttare al meglio quella che è la dashboard delle risposte finali che sarà disponibile al completamento della validation. La fase di validazione si aprirà poi progressivamente per tutti i partecipanti a partire da metà aprile. Vi ricordiamo che rispetto alle informazioni della dashboard e rispetto a quelle che sono le notifiche ufficiali dell'ottenuto mancato o certificazione questo avverrà a partire dal 23 di novembre quindi subito dopo la validazione avrete un accesso parziale a quelle che sono le vostre risposte finali per quanto riguarda invece il punteggio e posizionamento sarà visibile solo dopo la notifica della certificazione in modo che possiate poi esplorare nel dettaglio quello che è il vostro punteggio per aree e topiche così come i dati di benchmark. Vi ricordiamo che i risultati comunque saranno ancora sotto embargo dal 23 di novembre fino a gennaio fino a quando non verrà definito il giorno effettivo della revoca dell'embargo e vi verrà annunciato in un secondo momento affinché possiate prepararvi. Ricordiamo quindi che se siete certificati potrete condividere il vostro status di top employer con il mondo solo all'inizio del prossimo anno quindi a gennaio 2023. quali sono i prossimi passi? Ora che abbiamo visto il quadro completo e abbiamo dato un overview del programma di certificazione vediamo cosa accadrà dopo il webinar di oggi. Nei prossimi giorni riceverete la nostra email ufficiale di benvenuto questa mail contiene tutte le informazioni dettagliate necessarie per iniziare correttamente il processo assicuratevi di dedicare del tempo a leggere tutte le istruzioni e le informazioni con molta attenzione vi consigliamo inoltre di salvare anche questa mail per riferimenti futuri oltre che poterla condividere con i propri collaboratori i vostri HR auditor o il global project manager di riferimento vi fornirà le timeline personalizzate per le fasi di compilazione della survey e validation ciò include la data di inizio della survey la data di invio della survey completata e una proposta per la sessione di validation l'email contiene anche informazioni essenziali come l'accesso a questo webinar alla user guide e al video guida alla validation vi ricordiamo pertanto di controllare di aver ricevuto la nostra mail di benvenuto nella vostra casella disposta verificando anche tra gli spam se siete partecipanti al primo anno potete aspettarvi di ricevere le credenziali per accedere al portale top employers oltre che di pianificare una chiamata di benvenuto individuale personalizzata da parte del vostro eciarudito vorremmo quindi a questo punto ringraziarvi per aver partecipato e per averci ascoltato vediamo allora di iniziare a collaborare con voi augurandovi comunque ogni successo in questo percorso di apprendimento continuo oltre che buon divertimento nel lavorare quotidianamente per un mondo del lavoro migliore prima di chiudere vogliamo dedicare dieci minuti alle Q&A in modo da poter rispondere ai vostri dubbi e domande di chiudere